Amici di Bracemi ancora? Questa che ho in mano è la pregiatissima ed esclusiva carne giapponese, il famoso Wagyu giapponese, la carne più esclusiva del mondo, la carne più cara del mondo. Intorno a questa carne c'è tantissima curiosità, vale davvero la pena? Ma che gusto ha? Solo marketing? Le domande che ci fate intorno al Wagyu quando pubblichiamo qualche articolo sulla nostra pagina o sui nostri canali sono tantissimi. Allora, la gente è spaventata ma incuriosita, spaventata dal prezzo ma incuriosita dal sapore che potrebbe avere e che ha oggettivamente questa carne. Allora, che cosa abbiamo deciso di fare noi di Bracemi ancora? In collaborazione con questa bellissima steak house che ci ospita, Beef Bazaar in via Germanico a Roma, abbiamo deciso di organizzare una serata interamente dedicata al Wagyu e alla carne giapponese. Quindi il format è molto semplice, vi faremo assaggiare in quella serata vari tipi di carne, vari tipi di Wagyu. A partire dalle imitazioni peggiori uscite, perché c'è chi prova a imitare un prodotto del genere, fino ad arrivare al top di gamma, a quel prodotto che arriva a costare addirittura 600 euro al chilo. Allora, lo sapete amici, noi di Bracemi ancora accogliamo tutti, abbracciamo tutti, motivo per il quale abbiamo deciso che alcuni di voi avranno ovviamente la possibilità di godere di questa serata in maniera assolutamente gratuita. Non vi preoccupate, paghiamo noi, siete nostri ospiti. Ovviamente ci dovete mandare un'email a infochiocciola.beefbazaar.com Faremo ovviamente una selezione perché non possiamo ospitarvi tutti, ma state certi che molti di voi verranno ospitati. Chi arriva tardi invece potrà fruire e godere della serata dedicata al Wagyu, ovviamente con un prezzo no agevolato, stra agevolato, perché su questo siamo stati molto chiari. Gli amici di Bracemi ancora, i fan di Bracemi ancora, devono sempre avere una corsia preferenziale per scoprire il mondo della ciccia. Ovviamente ci berremo, sapete cosa? Dei vini giapponesi. Sarà una serata molto Japan, a declinazione orientaleggiante, quindi io vi aspetto. Mandateci una mail a infochiocciola.beefbazaar.com Diteci da dove venite, lasciateci il numero di telefono, raccontateci qualcosa di voi. Ci vediamo presto, ci vediamo da queste parti. Ciao!